Il Serra di Falco ha conquistato la qualificazione al turno successivo della Coppa Italia di promozione. I Falchetti sono riusciti nell'Imbresa nonostante il 3-1 finale con il quale hanno perso sul campo del Castel Termini. Nell'economia del triangolare i Falchetti hanno avuto la meglio grazie alla vittoria ottenuta nel primo match del triangolare contro l'Aragona, battuta 2-0 al Valentino Mazzola. Questo successo si è rivelato fondamentale per le soldi delle Falchetti in Coppa Italia di promozione. Infatti nella successiva sfida tra Aragona e Castel Termini è stato l'Aragona imborsi 1-0 sul Castel Termini. A quel punto è diventata decisiva la partita tra Castel Termini e Serra di Falco.